giovanni sasso e la disputa e soprattutto un dialogo oltre che un confronto la disputa è un impegno a dialogare e soprattutto a riflettere su un grande tema che ha affascinato diciamo l'umanità in generale perché noi non vogliamo in questa sede dimostrare l'esistenza di dio vogliamo parlare di dio riflettere e soprattutto domandarci è possibile una vita una nostra esistenza con dio o è possibile pensabile senza dio il confronto importante soprattutto in questo momento storico in cui il laicismo e talora il nihilismo ha estromesso questa tematica dalla vita quotidiana e dalla vita intima delle persone